Dopo le difficoltà dei mesi successivi al lockdown, Casa Tabanelli torna a poter ampliare il numero di persone ospitabili nei suoi spazi. La struttura di Via Grande Torino, dalla sua inaugurazione nel 2015, offre riparo notturno a persone senza fissa dimora, danno sostegno alla loro condizione di povertà con ristoro di un letto, una cena o una colazione. Ora può tornare a regime offrendo 18 posti letto, ma per farlo cerca il sostegno di volontari. Casa Tabanelli riapre al volontariato perché in visione dell'inverno vorremmo ospitare molte più persone all'interno della struttura e per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Stiamo cercando persone disponibili a passare almeno una notte al mese a Casa Tabanelli o a vivere il momento della colazione insieme agli ospiti. Questo ci permette, aumentando la presenza di volontari, parallelamente ci permette di aumentare la presenza di persone che in questo momento dormono fuori. Per cui in questa giornata così importante, perché è vicino alla giornata mondiale dei poveri, chiediamo veramente un aiuto a tutti per aiutare queste persone e far continuare l'attività di Casa Tabanelli.